Nell'ultimo anno una collaborazione tra Google e Mastercard ha permesso ad alcuni inserzionisti negli Stati Uniti di scoprire se la pubblicità online funziona, inducendo i clienti a comprare nei normali negozi e come. Il programma era stato annunciato lo scorso anno da Google, ma l'accordo con Mastercard non era stato reso noto. La possibilità di tracciare preferenze e acquisti degli utenti anche offline pone numerose questioni, soprattutto in termini di riservatezza. Anche se un'azienda vuole operare bene, non è detto che altrettanto facciano tutti i suoi dipendenti. Ricordo che qualche anno fa il caso che travolse la security di Telecom Italia iniziò perché un dipendente infedele che aveva accesso ai dati voleva lucrare su una questione di infedeltà a Napoli. Inoltre, quasi quotidianamente, abbiamo notizia di violazione di dati avvenute online che coinvolgono anche aziende blasonate. Basti pensare al recente scandalo che ha travolto Facebook con Cambridge Analytica. Il sistema messo a punto da Google funziona più o meno così. Un navigatore vede l'annuncio di un prodotto online, clicca sulla pubblicità e finisce sul sito che lo promuove, senza però acquistare nulla. In un secondo momento entra in un normale negozio, vede il prodotto pubblicizzato online e lo compra, pagando con la sua Mastercard. L'azienda riceve le notizie in percentuale sui flussi collettivi di acquisti e le preferenze, senza però conoscere chi li abbia effettuati. C'è un'opzione che consente di disabilitare il tracciamento pubblicitario di Google nei telefoni, non è immediato e bisogna disabilitare questo tracciamento. Questo si può fare, non è facilissimo. E poi non è neanche detto che funzioni. È stato scoperto di recente che anche gli utenti che disabilitavano la localizzazione venivano tracciati nella loro posizione centinaia di volte al giorno, bastava che avessero il browser Chrome e questo da parte di Google. Il servizio era stato annunciato nel maggio del 2017 sul blog di Google, ma l'articolo non offriva molti dettagli. Grazie ad alcuni impiegati si è scoperta l'esistenza dell'accordo. Un portavoce di Mastercard ha ricordato a Bloomberg che questa pratica è usuale. Nel frattempo la Cina è stata accusata di spiare i manager su LinkedIn.